Allora ragazzi per quanto riguarda il tocco del viso inizio applicando questo correttore qua che è sempre quello della Rimmel che è lo 010 Eye e vedete applicarlo su tutte le perfezioni che vabbè in questo caso sono parecchie e allora soprattutto qui sotto gli occhiai qui sul mento più vabbè sui vari blufoletti che avete eccetera faccio tre puntini sul naso qui ho un po' e faccio questo segno sulla fronte e vado a sfumare tutte le parti tranne sotto gli occhiai utilizzo questo pennello qua da fondotinta che è quello della Kiko di un'edizione limitata quindi tampono e sfumo il correttore e vado a sfumare potete tranquillamente utilizzare le dita non ci sono problemi quindi fatto questo avete due opzioni dopo aver sfumato il correttore o applicate il fondotinta o non lo applicate perché penso che poi lì nel concerto eccetera non stiamo tanto a pensare a come siamo alla fine quindi l'uso per coprire un po' così le discrumi eccetera però poi alla fine io non utilizzerò il fondotinta perché prima mi darà fastidio ne sono sicura poi si sbaverà farà schifo alla fine quindi io non lo applico però se avete una pelle magari particolarmente acneica comunque segnata eccetera potete utilizzarlo insomma non c'è nessun problema questo poi va a vostro gusto come cipria utilizzo questa qua che è la Stay Matte sempre della Rimmel e questa è la 001 Transparent con questo pennello qua della Sedona Lace che sapete sono i miei è un combo perfetto questo che è il 376 e quindi lo vado ad applicare sulle parti dove ho messo la il correttore più lo vado anche a mettere sulle altre parti del viso per opacizzare un po' la la superficie perché io ho il mio capello particolarmente graffa sulla fronte quindi faccio la cipria anche là dopodichè ultimo passaggio per ultimo per ultimo passaggio per il viso è questo blush qua che è il mio preferito non lo cambio mai perché vi trovo stra bene questo è il blush che sono qua di HitchNem si chiama 12 Dazzling Peach con questo pennello qua della Frauline che è il set quello bambù mi pare piccolino anche qua non abbondo più di tanto perché alla fine non ci importerà però visto che non sembrate dei cadaveri lo vado ad applicare anche perché non sono andata a mare non sono particolarmente abbondata giusto per sembrare sane e non possiamo prendere lo applico un po' anche alla vita della tempia e su questa bossetta qua del vento lo passate così giusto per avere il colore un po' più uniforme insomma quindi il viso è quasi finito ultimo passaggio applichiamo il Fix Plus della MAC per far durare il trucco come ho anche detto già nel video quello per le ragazze più piccole faccio tre spruzzate e lascio asciugare per un minutino ok adesso che si è asciugato tutto il viso posso passare agli occhi allora utilizzo un ombretto in crema per il semplice fatto che rimane waterproof quindi lacrime sudore qualsiasi cosa voi abbiate questo rimane là quindi mi piace molto questo è lo Stay All Day della Essence ed è lo 02 Glammy Goes To ne prendo un pochino e lo vado ad applicare sulla palpebra quindi solo su questa parte qua quindi come vedete è proprio un prodotto veloce da utilizzare si stende con le dita insomma quindi è perfetto per l'uso che ne dobbiamo fare dopodiché vado a prendere sempre un prodotto che comunque rimane fisso dove lo mettete che è questo ombretto in stick della Kiko che è il numero 06 e lo vado ad applicare nell'angolo giusto per dare un po' di profondità per non sembrare insomma con l'occhio piatto solamente per questo e anche questo comunque va sfumato con con i polpastrelli quindi lo andate a mettere così al lato dell'occhio in questo caso ci servirà un pennellino questo pennello qua della Elf e vado a sfumare l'ombretto stick quindi è come se avessi usato gli ombretti però l'effetto è più metallizzato e rimarrà per lo posso assicurare perché li ho usati anche l'altranno e il trucco era rimasto perfettamente intatto quindi ok questa è una proposta un po' più scura diciamo poi potete insomma variare potete mettere un ombrettino un po' più chiare insomma poi decidete voi momento del mascara allora utilizzo questo qua della Kiko che è una base bianca che serve ad allungare le ciglia quindi nel mio caso serve se avete già le ciglia lunghe di vostro non le utilizzate insomma quindi questo va applicato in modo normale insomma come se fosse un mascara non so se vedete che è bianco e lo lasciate asciugare per 30 secondi dopodiché si procede con l'applicare il mascara normale in questo caso io ne ho scelto uno waterproof appunto resistente all'acqua perché vorrei che questo trucco resistesse il più a lungo dopo lacrime e piantiche ci staranno per forza quindi per quanto riguarda il mascara appunto ho questo qua della Kiko che ho utilizzato anche l'altro anno ultra tech waterproof che ha questo qua queste setoline qua quindi oltre ad allungare questo è anche proprio allunga tenuta quindi tra l'altro la base bianca non altera il fatto che sia waterproof eccetera eccetera quindi potete tranquillamente utilizzarlo poi per toglierlo è un'ammazzata però ne vale la pena anche l'effetto è molto carino vedete e quindi procedo anche con l'altro il fatto che è il mascara per quanto riguarda la metita sotto vi do tre opzioni due sul blu celestino diciamo così e una sul marrone quindi tra questi tre colorazioni magari potete scegliere perché risaltano un po' più l'occhio quindi ci siamo e rimangono rimangono anche qua quindi sono perfette io vi farò vedere un occhio con questa qua che è un verde acqua insomma molto molto bello quindi una con questa perché col marrone questi colori stanno divinamente e vi farò vedere l'altra proposta con il marrone così riuscite un attimo a vedere le due differenze quindi iniziamo con questa qua che è della Kiko del numero 11 quindi lo vado ad applicare nella rima inferiore questa è scusate mi sono un attimo questa è molto 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 brillante fa risaltare tantissimo il marrone come vedete quindi questa è la prima come seconda abbiamo il marrone che naturalmente non risulterà così spiccante come questo però ci sta bene quindi questa come vedete l'occhio cambia completamente infatti questo è uno e questo è l'altro cioè forse per me io andrei con questo quindi mi vado a mettere questo anche qua ok ragazzi quindi questo è il trucco per quanto riguarda gli occhi non metto il maschera sotto per il semplice fatto anche qua lacrime eccetera si sfascerebbe tutto quindi lasciamo così sotto ultima cosa sopracciglia le petto in un po' non metto matita niente per il semplice fatto che sarebbe troppo cioè non serve alla fine quindi questo è il trucco della faccia mi rimetto anche gli occhiali così non vi spaventate per quanto riguarda le labbra potete mettere un burro cacao colorato o la mia strategia tra virgolette sempre una cosa che rimanga tanto quindi questa tinta qua della Kiko che è il numero cento tanto non si vede cento quindici quindi questa è la tinta abbinata allo smalto e dopo naturalmente quando si è asciugata poi va messo il lucidino io ve lo faccio vedere adesso questa vi posso assicurare che tenuta massima sei ore quindi questo è il trucco del del viso molto semplice molto veloce e soprattutto pratico perché alla fine ci serve quello e niente adesso vi lascio agli outfit spero vi piacciano grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.